La cosa che voglio dirvi è che saluto le associazioni territoriali collegate da tutta Italia in streaming perché sono del tutto consapevole come sui territori si sia avuta una situazione di straordinaria difficoltà in questi otto anni. Questi otto anni di crisi, quelli che vanno dal 2007 al 2015, sono stati anni difficilissimi per tutti e difficilissimi per i commercianti. Io sono affezionato ad un'idea e lo sono ancora di più che oggi che sembra finalmente arrivato la luce dopo il buio della crisi, al fatto che questa crisi, perché va inquadrata nelle sue reali dimensioni, sia durata più delle guerre mondiali. La prima guerra mondiale, il cui primo secolo riporre proprio in questi anni, è durata meno della crisi economica che ha attanagliato l'Italia. La seconda guerra mondiale è durata meno della crisi economica che ha attanagliato l'Italia in questi anni e noi non abbiamo. Abbiamo sentito forte il rumore, il rumore splendido della saracinesta che continuava ad aprirsi, dei commercianti che ce l'hanno fatta, che hanno resistito, che hanno avuto voglia di investire e che non si sono spaventati di fronte alla crisi e hanno detto io voglio andare avanti. A tutti coloro che hanno avuto questo coraggio, a coloro che oggi sono qui ad ascoltarci, io dico che hanno fatto bene e hanno fatto bene perché l'Italia sta rinascendo.